Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo, tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52, a Salerno. E' stato presentato questa mattina presso il Palazzo di Città Metelliano Il Sogno e la Luce. E' questo il titolo del cartellone degli eventi che scanniranno le festività invernali a Cava dei Tirreni. Il programma che abbiamo presentato oggi riguarda il progetto Il Sogno e la Luce. L'edizione di quest'anno, ovviamente, sia per ragioni di ordine economico-finanziario ma anche per il necessario rispetto rigoroso delle normative anti-Covid, è ridotto. Ma siamo comunque a 50 eventi che si svolgeranno nelle frazioni di Cava dei Tirreni e nel centro cittadino. Le manifestazioni sono articolate in una serie di sezioni a cominciare dall'attenzione al mondo dei bambini. Domani si aprirà nel Chiostro di San Francesco il villaggio di Babbo Natale. Ci saranno spettacoli nella sala teatrale appunto dello stesso convento dedicati ai bambini. Poi ci sono concerti di grandi orchestre che si terranno nella chiesa di San Francesco e concerti di grandi orchestre che si terranno anche presso il Palazzo di Città. Voglio soprattutto precisare che sarà svolta un'attività di controllo estremamente rigida. Voglio ringraziare anche gli imprenditori che hanno voluto sostenere questo grande sforzo dell'amministrazione e voglio ringraziare anche tutti i nostri dipendenti che con grande sensibilità e disponibilità hanno supportato questo grandissimo progetto che cerchiamo di realizzare. Colgo l'occasione in conclusione per augurare a tutti Buon Natale. Grazie a tutti.